Anticipazioni, che riprende le puntate che andranno in onda dal 5 al 6 settembre. Dopo essere uscito di prigione, Kemal si vendica della guardia carceraria, mentre Emir rapisce la piccola Deniz. Nian si incontra con Kemal in un luogo isolato, ma l'incontro non si svolge come sperato. Leila si reca in carcere e riesce a ottenere il permesso di incontrare Kemal grazie ad Aylan, uno dei prigionieri che ha una certa influenza all'interno della struttura. Durante il loro breve incontro, Leila nota le ferite sul corpo di Kemal, segno del maltrattamento subito dalle guardie. Cerca di rassicurarlo e fargli capire che non è solo in questa difficile battaglia della sua vita. Kemal, a sua volta, ha saputo da una guardia che lo tormenta che Nian è incinta di Emir, ma si chiede se il bambino non possa invece essere suo. Leila chiarisce subito che, durante il giorno in cui era in ospedale con Nian, il medico le aveva comunicato che il test di gravidanza era negativo, escludendo così questa possibilità. Nel frattempo, il commissario Akan viene convocato da uno dei suoi superiori, che gli consiglia di lasciare in pace Emir Kotskoglu e di chiudere il caso quanto prima. Contemporaneamente, Vildan si reca a casa dei genitori di Kemal e invita Zeynep a accompagnarla a una visita dal ginecologa. Zeynep rifiuta e diventa persino aggressiva quando Vildan insiste. La madre di Ozan si accorge che Zeynep ha un comportamento strano e le chiede il motivo. La ragazza a quel punto confessa di aver perso il bambino e Vildan, in preda alla rabbia, reagisce violentemente, sentendo la perdita della gravidanza di Zeynep come una nuova perdita di suo figlio Ozan. Qui ci sarà un salto temporale di un anno, in cui scopriamo che Nihan si trova in Inghilterra e la sua bambina Deniz, a circa tre mesi, Nihan cerca di condurre una vita il più normale possibile come madre single e ha assunto una babysitter per prendersi cura di Deniz mentre è al lavoro. Quella mattina, al suo ritorno a casa, trova la babysitter svenuta sul divano e si accorge che sua figlia è stata rapita. Realizza subito che Emir è coinvolto in questa situazione. Nel frattempo, quest'ultimo è praticamente ristabilito dopo un lungo ricovero ed è tornato alle sue solite abitudini. Nihan prova a chiamare Emir, ma lui, vedendo un numero inglese, non risponde. Poco dopo, riceve una telefonata da sua madre, che le informa che sui giornali sono apparsi vari articoli che dicono che Nihan ed Emir si sono riuniti e sono più felici che mai. La protagonista prende un volo e torna in Turchia, dove si confronta con Emir nel suo ufficio. È furiosa e chiede con insistenza dove si trovi sua figlia, ma Emir nega di avere informazioni su Deniz. Determinata a ottenere giustizia, Nihan si rivolge alla polizia per sporgere denuncia, ma qui viene ignorata e non presa sul serio. Si rende conto che Emir ha corrotto tutti e decide di fare scalpore. Di conseguenza, la polizia la considera un problema, e la trattiene per diverse ore. Poco dopo, Emir si presenta per farle visita, dimostrando l'enorme influenza della famiglia Kuskoglu, riuscendo a garantire il rilascio immediato di sua moglie. Tuttavia, Nihan comprende di non voler più essere vista come una vittima. Decisa a riprendere il controllo della sua vita, si dirige verso la villa Kuskoglu, sparge benzina ovunque e la incendia. Con l'intento di liberarsi finalmente di tutti i problemi e i compromessi che avevano trasformato la sua esistenza in un incubo. Poco dopo, Emir arriva alla villa, ma può solo osservare come le fiamme avvolgono l'edificio. Le dice che gli consegnerà la piccola Deniz se lei accetta di tornare da lui. Nel frattempo, Kemal viene presentato di fronte ai giudici, che devono decidere se concedergli la libertà condizionale. Asu riesce a ottenere una sentenza favorevole e Kemal viene rilasciato dal carcere. All'uscita, è accolto dai suoi genitori, da Leila, da Asu e anche da Zehir. Nihan si fa strada davanti a loro. Fehim esorta suo figlio a non assecondare Nihan, ma Kemal decide di avvicinarsi alla sua ex fidanzata. Mentre Kemal si sta avvicinando, arriva Akan e lo ferma per congratularsi con lui nel frattempo. Nihan riceve una telefonata minacciosa da Emir, diretta a sua figlia. Leila si avvicina e le dice che deve andarsene, in quanto non è gradita. Alla fine, Nihan decide di seguire il consiglio di Leila e se ne va. Poco dopo, Emir incontra Nihan. Si mettono in auto e si dirigono verso il lungomare. Lì, freddamente, Emir inizia a spiegare come potrebbe fare in modo che Deniz venga trasferita tra diversi intermediari, per poi essere adottata da persone straniere. Tuttavia, prima che Deniz possa essere completamente perduta, Emir propone di simulare un incidente mortale, in modo che non possa mai più essere rintracciata. Ascoltando queste parole, Nihan ribadisce ancora una volta a Emir che è uno psicopatico e decide di andarse, Emir afferma che Nihan avrà la possibilità di riavere sua figlia solo se si arrende. Nel frattempo, Kemal ruba un taxi e si finge autista, con l'unico scopo di vendicarsi della guardia, che ha reso la sua vita un vero incubo in prigione. La guardia entra nel taxi di Kemal. Non appena si trovano in auto, la guardia comincia a percepire che qualcosa non va. Nota che mancano le maniglie interne della porta posteriore, e si accorge che l'autista non sta seguendo la strada per la sua destinazione, anzi, ha aumentato la velocità dirigendosi verso un luogo sconosciuto. Mentre la guardia cerca di raggiungere il suo telefono per contattare la polizia, Kemal frena bruscamente, si volta verso l'uomo, e le dice che è tempo di affrontare le conseguenze delle sue azioni passate. Poco dopo, entrambe arrivano nel bosco. Un furgone è stato allestito, in modo simile a quello della cella di isolamento di Kemal. Quest'ultimo apre la porta, e chiede alla guardia se riconosce il luogo, e infila una chiave nella serratura. La guardia, spaventata, inizia a chiedere cosa le accadrà, implora Kemal di non lasciarlo lì, dice che la sua famiglia lo cercherà. Kemal, però, risponde con cinismo, elencando come la madre, costretta a vivere in una casa di cura. O il fratello, con cui non ha più contatti, non si preoccuperanno della sua assenza. La guardia supplica Kemal, promettendo di obbedire ai suoi ordini, pur di non rimanere in quel posto. Nonostante le sue implorazioni, Kemal lo informa che resterà lì fino a quando lui stesso non avrà scontato la punizione che le ha inflitto. L'uomo disperato esprime la sua convinzione di morire in quel luogo, ma Kemal minimizza la sua paura dicendo che sarà Dio a decidere. Dopo aver lasciato la guardia in lacrime, Kemal si rivolge al suo complice, assicurandosi che Sitki, fino al compimento dei giorni stabiliti, debba rimanere in vita. Non gli deve mancare né acqua né cibo, ma questa resterà la sua punizione. Nel frattempo, il detective ingaggiato da Nian sta seguendo le tracce di Emir. Osserva Emir mentre parcheggia l'auto davanti a una villa e nota l'uscita di una giovane donna, che non è altro che Zeynep, che nel frattempo è diventata la babysitter della piccola Denise. Il detective contatta Nian per aggiornarla sulla posizione di Emir. Nian gli comunica che sta per arrivare. Nel frattempo, Fehime chiama Zeynep per invitarla a una cena che sta organizzando per festeggiare il ritorno di Kemal. Zeynep risponde che non può partecipare, usando il suo lavoro di babysitter come scusa per evitare di affrontare suo fratello. Tuttavia, Fehime le avverte che se non troverà un modo per essere presente alla cena di famiglia, contatterà direttamente il suo datore di lavoro. Confusa, Zeynep promette a sua madre che farà del suo meglio per partecipare alla cena. Contemporaneamente, Nian arriva alla casa segnalata dal detective. Entrando nella villa, inizia a chiamare Denise, ma trova soltanto Emir, che le fa capire che si tratta dell'ennesimo inganno. Infatti, Emir si era accorto di essere seguito da uno degli uomini di Nihan, e aveva avvisato Zeynep di portare la neonata in un luogo diverso. Nihan assicura a Emir che questa volta non sarà più la sua vittima, e che troverà Denise da sola. Emir la attacca, sostenendo che il suo comportamento dimostra che amava Ozan più di quanto ami sua figlia. Nihan ribadisce che non si lascerà più coinvolgere nei suoi giochi perversi. Quando Nihan sale in macchina, nota un simbolo dell'infinito sul parabrezza e comprende che si tratta di un messaggio di Kemal che le chiede di incontrarlo. Si dirige verso il lungomare, un luogo dove si erano incontrati molte volte in passato. Tuttavia, l'incontro tra di loro si rivela ben diverso da ciò che Nihan si aspettava. Kemal le comunica che, a causa delle sue azioni, ha distrutto il vecchio se stesso e l'amore che provava per lei. Inoltre, accusa Nihan di aver protetto Emir, non solo provocando la morte di Ozan e di suo padre, ma anche facendogli perdere sua sorella e suo fratello. Kemal chiede a Nihan perché sia andata al carcere per vederlo all'uscita. Ma prima che Nihan possa rispondere, lui aggiunge che, probabilmente, ha bisogno del suo aiuto. Con tono molto freddo, le comunica che è disponibile ad aiutarla, ma in cambio di un favore, proprio come fa Emir per ottenere le cose da lei. Nihan, infuriata, urla il suo odio e tenta di colpirlo, ma Kemal ferma la sua mano e le consiglia di calmarsi, ricordandole che ha tempo fino al mattino per prendere una decisione. Infine, Soidere si allontana, mentre Nihan lo avverte che non dovrà mai dimenticare questo giorno.